molto bene siamo giunti praticamente alla fine di questa puntata di foodology alimentazione per principianti ma andiamo alle domande dei nostri telespettatori ricordo che potete scrivere a foodology.it chiocciola gmail.com allora ci scrive marco ci dice a pranzo mangio solo una verdura e una frutta tra parentesi finocchio più mela alla sera solo la pasta nel fine settimana vi do gli aperitivi e alle cene senza risparmiarmi però in grasso che cosa sbaglio è una bella domanda vabbè è un po difficile rispondere così su due piedi la risposta breve è l'incoming calorico è comunque superiore al al consumo energetico poi vabbè qui non si parla di spuntini vari non si parla di colazione e e poi comunque anche la pasta quando parlavamo di di calorie inutili cioè faccio il bis quante ne mangio faccio attività sportiva per cui a marco devi mangiare bene forse meglio perché non so quanto faccia bene ma c'è solo un finocchio da me la paranzo poi alla sera quello che c'è nei weekend sì ormai direttore assolutamente sì è anche abbastanza sconsigliabile un'alimentazione così diciamo sballata sì no beh è fatta a momenti per quanto capisco che durante la settimana magari si vuole rimanere leggeri per per non addormentarsi per avere la stanchezza post brandiale però consiglierei le calorie cercherei di concentrarli alla colazione soprattutto nella colazione e un po nel pranzo eviterei di mangiare la pasta la sera ma non per ci sono tutte delle questioni sulla digestione dei carboidrati alla sera e così via però è dato che poi si va verso la notte in cui di calorie se ne consumano ben poche ripeto farei una buona colazione un pasto leggero cena leggera ed evitiamo soprattutto le calorie brutte cioè il consumo di molti alcolici stuzzichini alimenti grassi e così via poi fanno grazie ovviamente dottor sarra che lei è appunto il nostro virgilio che ci accompagna come sentite sotterò 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 semo de roma grazie davvero per averci seguito fu dottor ci si tratta come sempre settimana prossima stesso giorno stessa ora ciao a tutti ciao ciao